Ciao Antonella, allora volevo dirti una cosa, l'altro giorno ti ho vista in televisione al grande fratello e stavi discutendo con Samantha De Grenet, non entro in merito alla discussione ma entro in merito al fatto che tu hai fatto una dichiarazione hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così, non hai avuto un tumore Antonella, hai avuto una cosa terribile, si è stata operata ah, per carità, ma non hai fatto chemioterapia, non hai fatto radioterapia, non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io, quindi io parlo di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione, un contraddittorio televisivo tirare in ballo questa malattia credo che sia proprio una brutta cosa, non ci fai una bella figura Antonella, per niente, capito? Cioè, un contraddittorio si vince con altre armi, io penso che tu possa anche avere delle altre armi non capisco perché hai usato la malattia. Che dici? Buon lavoro!